il nuovo facile facile a 1 unità 7 al negozio di abbigliamento ciao ti posso aiutare sì vorrei vedere una camicia che taglia porti la m una media ho questa bianca molto bella e c'è anche in altri colori questa va bene il bianco è il mio colore preferito la posso provare sì l'hai in fondo a destra grazie come va ti piace sì molto quanto costa costa 30 euro mi puoi fare lo sconto no mi dispiace è già scontata ti serve altro sì quanto costano quelle scarpe quelle costano 25 euro che numero porti porto il 42 mi dispiace il tuo numero non c'è più è finito ok allora prendo solo la maglia bene puoi venire alla cassa grazie grazie a te